Vivere bene ad ogni età è lo slogan del progetto Silver che si rivolge a cittadine e cittadini over 65 e loro familiari offrendo una serie di servizi alla cittadinanza anziana residente nell'ambito di Lodi. Il progetto Silver è finanziato da Fondazione Cariplo e vede come soggetto capofila l'ufficio di piano dell'ambito di Lodi insieme a 13 enti partner con lo scopo di mantenere l'autonomia della persona anziana e favorire la permanenza al domicilio. Grazie al lavoro di rete tra i servizi sociali e i servizi sociosanitari vogliamo valorizzare le risorse personali dell'anziano e del suo contesto familiare. Il progetto Silver è rivolto alle persone over 65 residenti nell'ambito territoriale di Lodi che hanno la necessità e che potrebbero avere la necessità di interventi sociali, sociosanitari o anche leggeri. Inoltre il progetto è rivolto ai caregiver, ai familiari o anche ad altri soggetti che si prendono cura di una persona cara e quindi che richiedono un supporto nell'assistenza della persona. È rivolto anche ai cittadini, alle cittadine che vogliono impiegare del loro tempo, delle loro competenze in attività di volontariato volti al beneficio della comunità intera. Il progetto personalizzato offre molteplici servizi e interventi, tra cui servizi leggeri, un aiuto nel disbrigo delle faccende domestiche, accompagnamento per la spesa, consegna pasti a domicilio, attività di socializzazione e movimentazione attiva. Inoltre abbiamo anche interventi di carattere sociosanitario, tra cui abbiamo un'assistenza per i disturbi del comportamento, supporto alla stimolazione cognitiva attraverso delle attività ben identificate e una rilevazione dello stress del caregiver. Infine abbiamo anche interventi di carattere riabilitativo. Con la presenza di un fisioterapista presso il proprio domicilio vogliamo migliorare la movimentazione dell'anziano e dare una consulenza per la gestione dello spazio domestico. Per i servizi sociali dell'ambito di Lodi, se volete segnalare un caso, basta tranquillamente scaricare la scheda sul sito ufficiale dell'ufficio di piano ambito di Lodi e successivamente un assistente sociale dell'equip del progetto Silver vi ricontatterà per elaborare insieme un progetto personalizzato.